L'amorismo è l'anima, la tazza è il tempo del disco Viola la lancio sopra le destre del corpo Che schiocciacordia! Una nuova volta, questa stelle c'è già Che tu ogni minuto, ma che conta c'è già Ma che conta c'è già Ma che conta c'è già Ma che conta Ma che conta c'è già E fai il carriere, l'assicuratore, il campione del mondo, la live di impressione Ma che conta c'è già già 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 E fai l'estetista, e fai l'orato, e fai il caso umano, il pubblico in studio, è poco costato Ma che conta c'è già 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 Ma che conta c'è già già E non te ne hai Una vita in vacanza Una vecchia che parla Niente nuovo che avanza Ma tutta la banda che suona e che canta Per un mondo diverso Pubblicità Grazie 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 Buu Buur G-Città Famevo Cosmetics Regaliti l'efficacia di una crema all'olio di ravece Buu Какono Buu-Punto-Famevo.it Finalmente a Flumerim, invia a Cile del Gasperi Un family park a misura di bambino e non solo Sala feste da grandi piccini, area playground con interactive floor, godersi una pizza in compagnia mentre bambini potranno giocare la bene nell'area apposita, laboratori creativi, corsi di lingue certificati e un ricco programma di animazione giornaliero. Visita la nostra pagina Facebook, il profilo Instagram e sito internet, promozione in corso su tutte le prenotazioni, chiamaci e segui i numeri 0825-770-3314-3327-1513486 Eccoci, bentornati Radio CRT, siamo qui alle ore 12.05 e siamo pronti per il primo gioco organizzato dagli scout del gruppo 1 a Gescidi. Ariano Erpino, abbiamo qui con noi Maria Grazia che è la responsabile dei lupetti. Maria Grazia che cosa ci faranno vedere adesso? Allora, visto che noi siamo un bel branco di lupi e oggi abbiamo l'onore di avere la compagnia di questi bambini bellissimi di Melito, quale miglior gioco se non la caccia? Visto che siamo lupi e andiamo in caccia. Abbiamo pensato di conoscere un po' meglio la natura che ci circonda. Quindi faremo dei giochi, che non vi svelo perché se no i bambini poi perdono la sorpresa della cosa, faremo dei giochi che ci porteranno a conoscere un po' meglio quello che ci circonda. Bene, quindi ragazzi non perdiamoci questa meravigliosa occasione, avviciniamoci qui al cerchio dei lupetti e possono partecipare tutti Maria Grazia, giusto? Tutti, 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 qualsiasi età, anche i grandi, Luigi già si propone. Mettiamoci in cerchio, mettiamoci in cerchio. No? Bimbi, volete raggiungere la postazione scout? Venite? E va bene, noi vi lasciamo con la musica di Radio CRT, poi faremo qualche... siamo in diretta Facebook? Sì, siamo in diretta Facebook sulle nostre pagine, potete seguirci, ma se prendete la macchina e vi diriggete verso Melito, è la cosa migliore anche perché alle 13.30 partiremo con il picnic. Andiamo in musica e annunzzo, a fra poco! Pizzeria, cucina casereccia, ingredienti e sapori antichi, pasta rigorosamente fatta a mano, specialità carni locali, antipasti ricchi e curiosi, angolo braceria con ampio caminetto e spazi infermi. Pizzeria con forno a legna, dolci fatti in casa, locale per ricevimenti, possibilità compleanni bimbi con animazione, menù per intolleranze alimentari su richiesta, un indirizzo affidabile e di fiducia, dove è marcata la soglia, si è accolti da un simpatico staff che vi farà subito respirare un'aria familiare. Tradizione e familiarità sono i punti salienti di questo locale, dove tradizione è sinonimo di antichi piatti tramandati di generazione in generazione. Matullo Trattoria Pizzeria, in via Libertà 12, a Melito, Irpino, a Bellino, per rinco e prenotazioni 0825 47 2019, oppure 368 6075 32, chiusura il martedì. A Casalbori, in provincia di Avellino, c'è l'Agenzia Viaggi e Turismo, lo Chalet dei Viaggi, biglietteria aerea, marittima e ferroviaria, soggiorni in Italia e all'estero, cruciere, nuigio, auto, e in più una promozione per tutta l'estate. Sulla prenotazione di una vacanza vi verrà riconosciuto un buono sconto sulla prossima vacanza. Questo e tanto altro ancora vi aspetta presso l'Agenzia di Viaggi e Turismo, lo Chalet dei Viaggi, via l'Europa 70, 83034, Casalbori e Avellino, telefono 0825 849765, fax 0825 84935, passa a trovarci, chiumaggeremo di un piccolo gadget, lo Chalet dei Viaggi, vieni a conoscere il mondo insieme a noi. CRT Radio, le nostre offerte pubblicitarie. Dieci passaggi giornalieri, possibilità di cambiare lo spot tre volte in un anno, pagina dedicata sul nostro sito internet, realizzazione di un breve videoclip registrato a diffusione social, passaggio in monitor dello sponsor e videoclip nelle piazze dove sarà presente CRT Radio, formula di 6 mesi o un anno, prezzo straordinario, 6 mesi euro 200, 12 mesi euro 350, chiama i nostri referenti, Edi Di Michele 3394560657, Antonio Perna al 3293531717, Davide Iannunzo al 380-3115430, oppure al 328-8812506, CRT Radio, è tutta un'altra musica. CRT, 24 ore su 24, sempre con te. 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti